ciao a tutti abitanti oggi facciamo la voce facilissimo attacchiamo il microfono alla scheda audio dopodiché sentiamo se arriva il segnale alziamo abbassiamo il volume come ci piace e registriamo sulla nostra base allora questo è il canon questo è il microfono bellissimo è un newer mv 800 mettiamoci questo serve per bloccare le pelle con la roba insomma adesso faccio delle prove delle prove se mi sento se registra qualcosina se c'è bisogno di alzare un po il volume d'ingresso o insomma delle prove per vedere se la traccia viene bene e poi parto e mi concentro il registro tutta la canzone via bene allora vediamo un po che cosa si sente maroon ok aggiungiamo una traccia che sarà la nostra voce box armiamo la traccia sentiamo non sente un tubo di niente giustamente può funzionare tutto subito sa passa allora finiamo un po di cosa sbagliato input 1 giusto perché non si senta fare per questa cosa io devo accendere dietro la phantom perché se non arriva niente o adesso mi arriva sa 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 un ora come 12 prova ok sono le otto e 54 e non ancora dato da mangiare al gatto perché devo scrivere una nuova canzone mi sa che ci metterò un eone a che stress non avere idee come in guerra in mezzo alle trince a che stress non avere idee come in guerra in mezzo alle trince ormai sono già le 10 e 30 e la mia mente è davvero lenta qua lo lascio strumentale infatti ne ho messi due apposta per entrare nel mood e tanto ecco che alle 9 di sera è qua solo che non so fare e quindi lo farò col violino dopo nel prossimo video qua non so io intanto lo canto al ritornello poi vediamo se tenerlo va che stress non avere idee allora la voce la normalizziamo quindi ctrl shift n ok ok sono le otto e 54 e non ancora dato da mangiare al gatto perché devo scrivere una nuova canzone ma qua si vede che è più alta la registrazione perché è orlato un po' di più questo è il ritornello e poi ero abbastanza più convinto sulla strofa questa prima strofa un po' bassina la potrei rifare ma non c'ho voglia poi poi ci lavoriamo un po' in fase di mix sulla voce mettendo il riverbero un po' di effetti no così per creare un po' d'ambiente poi ci mettiamo un compressore un desser solite cose ma le vedremo poi nel dettaglio più o meno nel dettaglio più avanti adesso io invece vorrei fare una seconda voce i cori perché nel ritornello voglio fare la proprio la seconda voce adesso faccio delle prove e poi la registro ok approvato e il ritornello ce l'ho quindi allora per il ritornello qua mettiamo coro mettiamo coro questa voce faccio partire da qua e vediamo un po' cosa salta fuori secondo non ce la farò mai non ce la farò mai senza whisky ma che stress non avere idee ecco che alle nove di sera giunge un'idea inaspettata è caduta giù ottimo direi bene ragazzi amici di old fart gli abitanti di Cipangu vabbè abbiamo la canzone è già a buon punto ci manca la solo e poi bisogna iniziare a fare un po' di mixaggio vedere un po' traccia per traccia che effetti aggiungere come sistemarla negli accorgimenti però già così suona bene a me piace a me a me piace quindi nel prossimo video mi sa che faremo la solo di violino dai facciamo la solo di violino voi potete fare la solo con la voce e far ridere fate il puuuu così oppure potete fare se non sapete suonare il violino improvvisare in maniera estremamente geniale come me fate usare una tastiera fare degli assoli a caso con una nota che si che continui a muovere insomma oppure se siete bravi con la chitarra fate ma anche una roba semplice non deve essere una roba velocissima io vi posso far vedere magari o sbiodino due tipi di assoli uno base se sei fare tre note e uno invece improvvisando così a come si dice al brucio no non brucia niente va bene dai ci vediamo ciao ecco che alle nove di sera giunge un'idea inaspettata è caduta giù la barriera la canzone qui è già creata la canzone qui è già creata non 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 non